Ciao ragazze, nuovo video, nuovo se non primo, video collaborazione, tanto che non mi vede questo bambino, nuovo primo video collaborazione con un sito cinese, giusto? Sì, che vi metteremo il link nell'info box, il nome del sito che abbiamo già rimosso, perché queste cose qua, sei mesi fa abbiamo ordinato, esatto, è una vita che sono arrivata, ci hanno impiegato un paio di mesi ad arrivare, più o meno un mese e mezzo, due. E niente, praticamente ci ha contattato questo sito per una collaborazione e la Mary ha gentilmente scelto degli oggetti per la sua amica e mi è arrivata a patto sorpresa a casa, perché non sapevo neanche cosa avesse ordinato. E' arrivato praticamente con questo imballamento, diciamo anche ben imballato, questo imballaggio, erano tutte ben proteste le cose, e sì, un paio di bijoux o qualcosina. Allora, il budget era di 7 euro, visto che Veronica è una ragazza molto impegnata e non ha tempo di stare lì a guardare sul sito, cosa comprare o non comprare, io ho deciso di spendere questi 7 euro nel seguente modo. Questo qua è un sito cinese dove le cose costano veramente pochissimo, si possono trovare dei bijoux da 40-50 centesimi fino alle cose un po' più carine che costano 1, 2, 3, 4, 5 euro. Ho avuto un po' di problemi con l'ordine, perché tutte le cose carine che selezionavo magari non erano disponibili. E di qua e di là ho fatto 350.000 ordine, alla fine delle finite ci è arrivato questo ordine qua, composto da 2, 4, da 6 oggetti. 6 oggetti, quindi più o meno ci fa 1 euro al pezzo. Ma sono soddisfatta del choker, però l'unica cosa è coperto, perché è curiosissima. Allora, primo acquisto che farò vedere io, poi tu fai vedere le cose di carta. Questo choker che la Mary Rose ha gentilmente scelto per me, che è molto carino in realtà, è in velvet. in velluto nero, con questo charm fatto a cuore, con tutti gli svaruschini. Molto carino, lo proviamo su miele. È ciò che è per miele, dai, proviamo su miele. Uh, che bellissima! Ma che signorino! Mi ho pagato una foto, bellissimo, sembra una bambina. Molto carino questo per l'inverno, con un maglioncino, con insomma qualcosa, una tutina intera, molto carino. Sapete che io adoro poi i choker, quindi sono una fan number one. Questo, se costa comunque un euro a prezzo pieno, non è male, perché guardate anche tutto, forse non si nota dal video, però è tutto sberlucicoso, quindi è molto bello. Poi, seconda cosa, vediamo cosa ha ordinato. Ovviamente tutte le cose arrivano qua nel bustino. Ma infatti io quando è arrivato all'inizio pensavo che fossero degli ordini da Wish. Ho detto, ma che cacchio ho comprato su Wish? Invece no, perché comunque sono tutti nel loro involucro, quindi neanche messi lì proprio cavolo. Poi mi ha regalato questa bellissima collana, è composta da questa foglia dorata, carina anche questa, quando si mette magari in qualcosa, in un abitino semplice, una blusa. Guardate che bella la foglia, tutta così un po' graffiata. E molto carina anche questa, magari con un qualcosa di scuro risalta molto, perché è nel dorato. E' un codor miele, questo non ce n'entra, ma già l'amore. Poi mi sono arrivati due anellini. Allora, vediamo se riesco a spacchettarli, perché chiedo aiuto. Perché non riesco a, con queste unghie non riesco a fare nulla. Cioè con queste unghie sono in più di vita. Avemo un sale l'olio. Ah, guarda che sono fatto. No, non è vero. Ragazze, rottura in diretta dell'anello. Non comprate questo anello. Era un anello nero, con questo gattino. Ma dai, ma era anche più carino. Poi te lo incolliamo con l'attac, dai vado di sotto a prendere l'attac. Il secondo invece è questo qua argentato, con questa... Ape? Cos'è una libellula? Sì, una farfallina. Una farfallina. Carino, dai. Ma sì. Per me questo qua costava 40 centesimi. Una fredina. Peccato per il gatto, che era il più carino. Poi sono arrivati questi nail stickers, che sono degli stickers per unghie. Non è riuscito a fare. Anche questo costava sui 30-40 centesimi. Oserei dire che forse il choc era sui 2 euro. 2 euro, 50-50, queste schifezze, 30-40 centesimi. Poi non chiedetemi perché ho comprato questa argentina. Per i miei appuntamenti di svuoto all'armadio, che non sono assigui. Guardate, è carina. Travelling, con la giraffa. Ma questa qua l'hanno presa da... Da Wish. No, una notte da leoni. Non c'era il tempo che viaggiava con la giraffa. Vabbè. Comunque così rosa. E per scrivere i miei appuntamenti di svuoto all'armadio. E poi consulta la mia agendina. È carino, dai. Cioè, non è malaccio. Ci sta. E niente, questo era tutto. Peccato che il gatto. Cioè, il gatto era veramente un amico anello carino che c'era. Guarda. Adesso lo riattacchi con l'atta. Adesso con l'atta. Non riesco anche a prenderlo su. A me non entra neanche l'anello. Ma questi cinesini hanno tutte le dita super mega. Ma dai, ma il gatto aveva anche gli occhi verdi. Vabbè, adesso con l'atta che non ti preoccupare. Comunque niente, questi sono i miei riacquisti di questo sito. Dateci un'occhiata. Diciamo che le cose che sono arrivate sono molto buone. Eccetto questo anello col gatto. Che veramente si è disintegrato. Il choker sì, è bello. Come quelli che vende anche Zwicky. Il choker è bello. 6 euro a prezzo pieno. Guarda che brillanti, che belli. Però è vero, super mega, hyper sberluccicoso. Ah, purtroppo. Vedete. Speriamo comunque che questo video vi sia piaciuto. Vi abbiate spunto. Sotto nell'info box, nel titolo di questo video, trovate tutte le info del sito. Se volete darci un'occhiata, più o meno, sarà come un wish. Cioè, come prezzi. No, costanti meno. Perché trovi le cose anche a 30, 40, 50 centesimi. Non necessariamente. E la spedizione, quanto ti dava quando non riuscivi a ordinarli? Non mi ricordo, perché questo ordine l'abbiamo fatto mille mesi fa. Sì, tipo a gennaio. Più che altro, dateci uno sguardo e niente, reclameremo al sito il fatto che l'anello ci si è rotto, così non si sa mai che ci danno un altro buono da aspettare. Dai, prepariamo il mail dopo in inglese. Mentre when I was... Google Translate, facciamo prima. Però davvero, era davvero il più carino l'anello colgato. È bello il gattino. Peccato, va bene. Va bene, incolliamo, dai. Tanto una cosa è arrivata gratis. Chi se ne prende anche queste rosse. No problem. No, tu lo aggiusterai. Non hai l'attac in casa. Vado giù a prendere l'attac. Intaccalo con la colla. Andiamo di su. Ah, è o anche. Ma è meglio l'attac. Per essere più sicuri. Il tocco si sta facendo. Il tocco è meditazione. Adesso ci mettiamo qua al lavoro, perché siamo qua a casa, in cucina. Poi gli stickers. Ne utilizzerai? Non lo so. Ne utilizzerai. Proviamo a aprire e vedere come sono. Dai, testiamo in diretta gli stickers. Dai, proviamo magari sulle tue, perché io non ho solo smalto oggi. Quando è che metti il tip? Ma non va, ultimamente. Poi volevo darmi le grandi pulizie. È meglio non averle. Quali sono le grandi pulizie? Di casa? Sì, tipo mettermi con lo spazio di mezzadenti a pulire le fughe delle piastrelle e tutte quelle cose strani. Però mi sa che ci vuole una forbice, perché vedi come sono lunghi. Cos'è? Dietro non c'è la leggenda. Allora. Oh no. In inglese. Trip, clean, polish the fins or nails. Devi pulire le tue unghie. Remove the fins or nails. Per il telefono. E ciao. Mi hai voglia. No, into the water. 10-20 secondi. Devi metterla in acqua. Ah, è un tatuaggio, allora. Ah, e poi lo devi fare per il telefono. Ragazzi, abbandoniamo l'impresa. Faremo un video tutorial da parte. Ci sarebbero... Andiamo. Che sbatti però per mettere su tutte le unghie. E anche pensavo fosse qualcosa di adesivo. L'ho detto, apriamo la porta prima che fanno anni poi in cucina. Ehi, hai i cuori? Vabbè, comunque vedremo, dai. Le proveremo e vi faremo sapere. Questo secondo me è il video più triste della storia che abbiamo fatto. No, ragazze. Però d'altronde si è stato obbligato a fare questo video. Gli acquisti un po' deludenti. Però d'altronde, dato che ci hanno omaggiato... No, va bene, il chocker è carino però. E si stava solo il chocker alla collana. Sì, la collana con la... Gli agendini e le stickers bocciati. Vabbè, ragazze. Adesso chiudiamo un po' questo video collaborazione. Poi ci daremo al blog e cucina insieme a noi. Sì, ma è sulle 9. Ciao! Ciao!